Questo è il più evidente, vedete? Ah, miseria che strada l'ho presa! Tracce e cinghiali, come al solito, ehi, 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 tracce e cinghiali fresche, vedete? Tracce e cinghiali fresche, ehi, c'è un po' di rumore! Guardate che posto dove vi porto, eh! Guardate dove vi porto tra un attimo! Vediamo un po'? Sì, di qui si va? Sì, di qui? Sembra un po'... Sì, c'è un po' di piena oggi, però... Eh, là, là! Che posto! Wow! Qua non c'ho da dove iniziare! Eh, vi dico la verità! Wow! 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 Ma che meraviglia! Che meraviglia! Allora... Qua sembra che ci troviamo sulla curva... Sulla curva quando il torrente è in piena... Tanto qui si vede... Intanto lì si vede tutto... Tutto il postone... Tutto il postone che è franato... Guardate... Guardate... Guardate che morena rossa che c'è lì... Non so se l'altra... 30 metri... Eh? Se basta... Una morena che è franata... Quindi... Il materiale lava... Sbatte su quella sponda... Poi fa la piena di qua... Si spera... Fa la piena di qua... E se c'è la teoria del rimbalzo... Eh... Questa zona è da provare... Ok? Allora... La sluice... Vediamo se la usiamo... Perché... Se non troviamo... Se non troviamo... Qualcosa interessante... Non si usa la sluice... Allora... Qui... C'è già un... Un tronco d'albero... Non indifferente... Proviamo... Un attimo... A vedere... Se troviamo... Un po' di... Mineralizzazione... Eh? E' un po' così... Anche se è sabbiosa qua... Però... Sendo che ci sono un po' di sassi pesanti... Non vuol dire... E' un punto buono... E' un po'... Si... Mineralizzato... Guardate... Quanto è... Mineralizzata... Questa... Questa sabbia... Sembrerebbe terra... Vedete... Sembra terra... Però... E' mineralizzata... Questo ci fa ben sperare... Adesso... Provo... Provare in una lavata... E' il quarzo... Allora... Proviamo... Una... Una... Una lavata... Così... Quanto sassi... Tutto... 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 Anche il sassi... Bisogna lavare... Il quarzo... Sassoni... Via... Tutto... Bisogna lavare... Tutto... Ok... Dai... Andiamo con questo... Ci portiamo dietro... Lo zappino... Che se arriva un cinghiale... Zappino... Wow... Si sciacquano bene i sassi... Quarzo... Pulito... Un controllo veloce... Così... Perché... Non ci perdiamo... Pezzettino di quarzo... Con oro nativo... Ma... E' sempre... Sempre difficile... Eh... Ok... Via... Vediamo sta battea... E vediamo cosa ci racconta sto torrente... Ok... E 순간! Non è male! Sioo! Ehi... P Scruggare... Nè... Sì. 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 e fine tutto fino a fine a fine sì 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 dai tracce 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 ragazzi non è che voglio illudermi non voglio illudervi tracce uno fa anche questo non è non è schiacciato piccolissimo però non posso vedere non è schiacciato poi ce n'è anche qui farina 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 piccola farina proprio fine questo è il più evidente vedete si tracce dai non ci illudiamo ci vediamo però ovviamente devo fare ancora un assaggio non ci vediamo Grazie a tutti.